In una situazione dove si punta il più possibile su rendere le persone autosufficienti, se vogliamo, nel riuscire a, utilizzo un termine improprio, diagnosticare un problema di questo tipo e a lavorarci su attraverso un percorso che porti allo scoprire la causa del problema, a elaborare tutte le dinamiche che lo tengono in piedi e a risolverlo con acquisizione di coscienza di se stessi e del problema stesso e di chi eventualmente genera il problema nel caso di abduction, che porti alla liberazione totale. Quindi non con una tecnica che ti spegne o ti accende l'abduction, che comunque non c'è in realtà, perché tutte le tecniche che sono adesso, anche la più recente e funzionale e veloce, comunque passa per un'acquisizione di coscienza che viene fatta fare obbligatoriamente alla persona. Se la persona non la fa, non c'è tecnica che rega. Quindi il futuro io penso che sia non puntare più su ulteriori aspetti tecnici, laddove io credo che con una tecnica come il TCT abbiamo già raggiunto l'essenza. Secondo me oltre con qualcosa di ancora più essenziale non si può arrivare. Il prossimo passo secondo me è solo la coscienza. Ognuno deve lavorare, comprendere quali sono le sue potenzialità o eventualmente i suoi limiti, diciamo meglio la sua situazione. E così lavorarci su e uscire dal problema. Questo secondo me si può fare attraverso una buona divulgazione. Quindi la ricerca può un attimino anche forse allentare e ci si può dedicare di più a divulgare tutto quello che abbiamo scoperto, capito. Tante cose sono secondo me ancora da scrivere, anche per quanto mi riguarda. E poi io credo che si possa puntare anche nell'ambito della divulgazione, sul rendere magari semplici e chiare determinate procedure dinamiche, così che altre persone si avvicinino e aiutino a loro volta altre persone ancora. O che si aiutino l'un l'altro. Questo credo che lo si possa fare, almeno iniziare noi. Devo però notare una cosa riguardo il cosiddetto gruppo di collaborazione. Ecco, i famosi collaboratori del dottor Corrado Malanga. È chiaro che in questo momento quello che poteva essere lo stesso gruppo di prima non esiste più, in quanto un Corrado Malanga che effettivamente fa ricerca e lavora sugli addotti con i quali si può collaborare, al momento purtroppo non c'è, in quanto è assorbito da ben altra situazione. Quindi non si può più parlare di gruppo ufficiale, di collaboratori, eccetera. Non so quale sia il nome, non so neanche se ci sia la necessità di un nome, però sono sicuro che molti di noi possono tranquillamente portare avanti questa cosa. Io ho deciso di portarla nel limite delle mie possibilità e decisioni, che non comprende l'esecuzione tecnica diretta delle tecniche, ma l'assistenza, la scrittura di articoli, eccetera, eccetera. In questo senso devo anche dare una piccola comunicazione, dato che si parla di futuro. Io, a livello ufficiale, non faccio più parte del gruppo, non sono più nel gruppo. A livello ufficioso, io continuo a restare in contatto con Massimo, Leonard, Alex e Roberto per tutti i temi che abbiamo trattato questa sera. Quindi dal punto di vista del futuro della ricerca e di quello che nel mio piccolo posso dare a questa ricerca, questo è tutto quello che mi sento di dire. Poi vedremo come va avanti. Grazie Luciano, sei stato molto chiaro. Mi piacerebbe sentire anche Dorica su questa questione. Sì, 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 mi trovo d'accordo con quanto espresso prima da Max e da Alex, l'informazione serve prima di mettersi a fare, controllarsi, controllare se stessi, per vedere che non ci sia nessun tipo di interferenza e non dare per scontato che sia facile. Non ho altro da aggiungere perché hanno già detto loro tutto. Certo, grazie, grazie Dorica. Mi piacerebbe sentire anche naturalmente l'opinione di Roberto. Per quanto riguarda il futuro di questa ricerca, noi pur non essendo più un gruppo continuiamo a sentirci e a scambiarci informazioni. La cosa che mi piacerebbe fare, forse potrebbe essere una soluzione e non tanto l'intervento su ogni persona, ma quanto riuscire a sviluppare, magari tenendo conto delle tecniche imparate, a riuscire a trovare un'altra soluzione, un'altra metodologia che possa aiutare la persona a fare determinati passi da sola. Le tecniche che adesso abbiamo funzionano, però ad esempio, visto che abbiamo suddiviso le persone in auditive, visive e cinestesiche, molte persone, per esempio le auditive, si trovano con il test ad avere alcuni problemi. Si stava parlando tra di noi anche di cercare di trovare fuori una possibilità usando dei suoni e anche di creare una tecnica diversa. Questo credo che in futuro, credo che parteciperà anche Corrado a fare qualcosa del genere, perché comunque, anche se lui sta facendo il suo percorso personale, si sta sempre pensando a creare un qualcosa che possa dare la possibilità da soli, e sottolineo da soli, a fare un certo tipo di percorso. Per quanto mi riguarda, io continuo a fare quello che ho sempre fatto, continuo a incontrare persone per la strada, e che pur non sapendo nulla, o non cercando articoli su internet, poi alla fine mi danno dei segnali, e mi fanno capire che hanno bisogno di sapere determinate cose. Quindi io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, a divulgare, a far sapere quello che so, quello che ho imparato, e nei casi limiti a prendere per mano, a far vedere le cose in una, come cita Corrado, in una mappa territoriale diversa. Ecco, quello che posso dire riguardo. Grazie Roberto, e adesso sentiamo il punto di vista di Leonard Sersani su questa questione. Sì, io sono un po' dissonante dagli altri, ne abbiamo già parlato fra di noi, naturalmente, e io la penso in modo un po' diverso. Sono innanzitutto convinto che Corrado abbia lasciato un buco enorme, Corrado Malanga è una persona insostituibile, lui parlava della sua eredità, nessuno qui ha voglia, perché nessuno è pazzo, diciamo, fino a questo punto di prendere sulle spalle la sua eredità, perché appunto è un'eredità molto pesante, molto pesante, come dire, vuoi prenderti un milione di euro di debiti? Io dico no, grazie, non ci tengo. Per questo Malanga ha fatto un grandissimo lavoro, e penso che lo continuerà a fare, ma in questo senso è insostituibile, sia dal punto di vista del volume del lavoro con gli addotti, lui faceva negli ultimi periodi 2-3 TCT al giorno, ha prodotto un numero di articoli che non è comparabile con nessun altro collaboratore, con nessun altro ricercatore, in questo campo. L'autorevolezza di Corrado, anche questo è un elemento che, almeno per quanto riguarda noi del gruppo, è assolutamente insostituibile, per cui ora ci troviamo ad affrontare un periodo assolutamente nuovo, e le cose cambieranno, questo lo dico per gli addotti, le cose sono, per chi non l'avesse già capito, ne sono, cambieranno parecchio, cambieranno parecchio innanzitutto perché le persone che collaboravano con Corrado Malanga, non tutte sono disposte, come avete sentito questa sera, ma anche quei collaboratori che hanno deciso di non partecipare, che hanno deciso di non partecipare questa sera alla puntata di UFOcast, hanno deciso di interrompere. Io sono dell'idea opposta, cioè nel senso che sono convinto fondamentalmente che gli addotti abbiano bisogno di una mano e che da soli non ce la possono fare, per un motivo molto semplice, tecnico, banale, fin quasi banale. L'addotto è una persona che ha dei parassiti alieni, che ha delle interferenze aliene, che ha delle personalità, che ha delle coscienze aliene, che si oppongono, e queste coscienze sono all'interno del soggetto, sono all'interno della persona, del cervello, della psiche, e lì lavorano e fanno di tutto per impedire che l'addotto possa avere la lucidità necessaria per venire fuori da questo problema. Voi pensate a una persona che ha passato, perdiamone uno giovane, che ha passato vent'anni della propria vita, tutta la sua esistenza in ogni caso, con il parassita alieno, che gli dice cosa deve fare, che gli fa sentire le emozioni di un certo tipo, che gli confonde la mente ogni 15 secondi, che gli istiga dei pensieri, e tutta una serie di interferenze, appunto, interferenze aliene, che vanno ad inficiare la lucidità della persona. Non nella stragrande maggioranza dei casi, questo non è possibile, con le migliori tecniche al mondo. Io di questo sono convinto, sarò un pazzo scatenato, ma questo è quanto. Sogno, diciamo, la possibilità di andare in pensione, nel senso che io sento sulle mie spalle le responsabilità, perché vedo i risultati, perché sento gli addotti, perché sento le persone, parlo con le anime, parlo anche con gli alieni, qualche volta, insomma, quindi sento questa responsabilità, perché vedo che questa mia esperienza ha una qualche, un qualche valore, e quindi sento di doverla spendere, sento necessariamente di doverla spendere, ma sarei ben contento di poter trovare, di poter prendere atto, perché questo è il punto, prendere atto, cioè che ci possa essere una tecnica in grado di cancellare le interferenze aliene in modo autoindotto, questo non è possibile, ci deve essere almeno una prima fase in cui il soggetto viene guidato, aiutato a liberarsi innanzitutto di queste interferenze, quindi creare la condizione di vicinità di cui parlavo prima e di pulizia, in modo che il soggetto possa cominciare a lavorare in un ambiente, a questo punto, sterilizzato, a lavorare per poter costruire qualcosa, quindi assolutamente sono convinto che la ricerca deve andare in questo senso e naturalmente facendo ricerca poi possono evolvere e possano nascere tante nuove idee, tante nuove iniziative, ma perdendo assolutamente il contatto con gli addotti, con la fonte principale di quello che sono i nostri dati che noi abbiamo raccolto, dai quali poi noi abbiamo ottenuto tutta una serie di detenzioni, di informazioni eccetera 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 perdendo questo tipo di contatto noi abbiamo assolutamente la possibilità di fare una ricerca che sia degna di questo nome. Quindi purtroppo devo però registrare che sono l'unico a pensarla in questo modo, io continuerò ma naturalmente bisogna che chi ci ascolta e gli addotti che stanno in contatto con io continuerò a fare quello che ho sempre fatto fino ad ora nei limiti naturalmente delle possibilità che sono estremamente abbastanza limitate quindi molte persone purtroppo rimarranno fuori per quello che mi riguarda e visto che credo che ci sia solo un'altra persona visto quindi mi chiede ti brucio l'ultima domanda visto che credo che nel nostro gruppo ci sia solo un'altra persona che è Roberto Coagola che si presta all'assistenza che tra l'altro è un'altra persona che abita qui a Reggio Emilia vicino a me che si presta per dare assistenza agli addotti attiva cioè facendo simulazioni direi che siamo rimasti io tu e mamma come si dice in in campagna che dire concludo dicendo che secondo me un gruppo di ricerca è una risorsa è una risorsa enorme